Stefano De Martino, se un obiettivo è facilmente raggiungibile a noi o io voglio cambiare il teatro, è il mio elemento. Lasciato il ruolo di giudice ad amici, il talent show di Maria De Filippi che l'ha visto debuttare giovanissimo tanti anni fa. Stefano De Martino sta per tornare su Rai 2 con la terza edizione di Bar Stella. In occasione del suo ritorno in TV, il conduttore ha rilasciato un'intervista a TV. Sorrisi e canzoni. Sulle pagine del noto settimanale, in edicola da oggi, Stefano De Martino ha raccontato cosa l'ha portato a riuscire a realizzare tutti i suoi sogni. Il luogo in cui Stefano De Martino si sente maggiormente a suo agio è il teatro. Con Bar Stella Stefano De Martino si è messo in gioco anche come autore.